Bentornato Gianrico Carofiglio, collegato con noi stanotte da Bari. Eccolo qui, fresco di audiolibro, poi ne parleremo perché il suo ultimo romanzo L'estate fredda, del quale abbiamo parlato qualche settimana fa, adesso esce in audiolibro poi ci racconterà degli audiolibri che tra l'altro stanno andando molto bene. È l'unico segmento del mercato del libro in Italia che sia in crescita e in crescita anche notevole credo nell'ultimo anno oltre il 20% che pur trattandosi di numeri in valori assoluti non alti è un dato significativo, secondo me è da incoraggiare perché è un bel modo di fare un'esperienza di lettura diversa ed è un bel modo per parlare in un'altra maniera di libri e per diffondere la lettura. È una cosa molto interessante, non è come leggere, è una performance, però va vista in quel modo lì. Se sono gli stessi autori, vabbè poi ci torniamo. Allora, il romanzo di Gianrico Carofiglio, L'estate fredda, è già da tempo un successo editoriale. Adesso, come dicevamo prima, Carofiglio ha letto questo suo romanzo e ne ha fatto un audiolibro che uscirà, ricordamolo tu l'avevo scritto... Il 18 maggio uscirà. Ecco, il 18 maggio, il 18 maggio. Tra l'altro sarà anche al Salone dei Libri di Torino, carofiglio per un reading dello stesso romanzo. Che esperienza è stata? È la prima volta che tu fai un altro... No, in realtà non è la prima volta, io sono fra i pionieri e grandi sostenitori dell'audiolibro in Italia perché questo è il settimo romanzo che io leggo, o meglio il settimo libro, sei romanzi e una raccolta di racconti. E sono un grande sostenitore sin dall'inizio di questa avventura della casa editrice Emmons, degli audiolibri, perché ero e sono convinto che siano un modo per moltiplicare l'esperienza della lettura e del resto quest'idea poi viene confermata da quello che dicono i lettori o gli ascoltatori a parte quelle categorie di utilizzatori del libro che hanno dei problemi con la lettura chi ci vede male o non ci vede per niente o chi per esempio fa lunghi viaggi in macchina tutti i giorni, non ha tempo per leggere e quindi ascolta ma a parte quelle categorie che amano moltissimo l'audiolibro e che ne decretano il successo crescente poi ci sono quelli che leggono i libri di carta e che hanno imparato ad affezionarsi alla voce magari dell'autore e dicono, e io sono d'accordo, che la lettura non è più la stessa quando è capitato di sentir, leggere il libro dall'autore o da un bravo attore e su questo una questione va sottolineata la lettura, la buona lettura dell'audiolibro non è una spettacolarizzazione, non è una recitazione è come se uno leggesse il libro a qualcuno che sta a letto, come si leggevano le favole in questa dimensione colloquiale che si colloca secondo me la bellezza dell'esperienza dell'audiolibro del farlo e poi dell'ascoltarlo è vero, guardi, io quest'estate sotto l'ombrerone mi sono riascoltato i Promessi Spotti letti da Paolo Poli è meraviglioso fantastico è vero voi avete ascoltato ma io però la trovo bellissima l'esperienza è bello tu? sì, io tantissimo mi sono fatto leggere tutta la quadrilogia della Ferrante dalla Buonaiuto che è bravissima che ha quel sottile velo di dialetto che sa alternare a un italiano perfetto invece ha più contaminazione napoletana poi il pasticciaccio brutto il letto da Gifuni insomma tante cose mi piace tantissimo